Alessio, la squadra oggi secondo te ha accusato un po' l'avvio di gara con i due rigori sbagliati nei primi dieci minuti? È normale che quando parti così forte e riesci ad ottenere due rigori nei primi minuti della gara e sbagliarli è un po' un colpo duro, però penso che al di là dei rigori oggi abbiamo fatto una buona partita e non ci hanno condizionato più di tanto. Fondamentale nel corso della gara il tuo intervento sulla linea, praticamente ha salvato il risultato? Sì, è un bel intervento, ci ho creduto arrivare sul pallone fin da quando è partita l'azione, è un bel intervento, è andata bene. Cosa è mancato secondo te oggi per vincere la partita? Secondo me, ripeto, abbiamo fatto una buona gara, abbiamo tirato tanto in porta e secondo me un po' di concretezza in più, un po' di voglia di far gol in più. C'è mancato quello lì perché poi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto delle belle azioni, puliti. Secondo me quello lì, un po' di concretezza in più, quello lì c'è mancato un po'. nuovo, ciao. Troppo!